Benvenuti nel canale Meli Made in Sud Oggi, come avrete letto dal titolo, vi propongo un video haul Assattatevi, acido, una bella tazzurilli caffè, una tisana calda, un infuso, insomma, quello che volete Mettetevi comodi perché vi mostrerò gli acquisti dell'ultimo periodo Più o meno sono acquisti che risalgono anche a qualche mesetto fa Tra gli acquisti che ho fatto ci sono dei prodotti che ho terminato Non ne ho più, neanche in scorta, anche se non sono abituata a fare tantissima scorta Ma, ecco, come si dice a Napoli, vado concia concia Concio concio Ma avevo bisogno di questi prodotti E quindi ho detto, Melania, o adesso o mai più Quindi, carpe diem Sono acquisti relativi a Tiger Hypercop Queen Outlet Casa Quindi sezione casa Essence OBS E Calliope E Acqua e Sapone Sì, ho fatto un bel giro Ah, ecco, e vi piazzo anche un piccolo acquistino Lidl Ma è veramente una sciocchezza Ve la faccio vedere Giusto perché è una È una puccioseria Mamma mia, quanto detesto questo Questo termine È una È una cosa cute Sono delle pantofole Qualcuno dirà Melania, grazie Sono delle pantofoline uscite Qualche settimana fa Da Lidl Da Lidl Perché sto facendo un bel po' di pasticci Insomma, un paio Miki Vedete averle pagate Sui 5 euro 4 euro e 99 3 euro e 99 Insomma, meno di 5 euro Quindi sotto i 5 euro E sono molto Molto graziose Molto cute Perché oggi si dice Non si dice Non si dice Sono dolci O si dice cute Queste pantofole Sono cuttanti E sotto hanno Quest'antiscivolo Mi raccomando Non utilizzate queste pantofole Per fare le pulizie in casa O per lavare i pavimenti Perché Scegliate Piate una bella Caruta E sta ruindo i pantofoli Sciocca Allora È uscita la nuova collezione Poi capirete alla fine È uscita la nuova collezione Di OVS Primavera La collezione Primavera E ci sono stati Diversi capi Che mi sono piaciuti Tra cui Un pantalone Un pantalone sportivo Devo dire che In passato Ero Gonna Vestitino Gonna Vestitino Nell'ultimo periodo Amo sempre Le gonne E i vestitini Soprattutto I vestitini Li amo tantissimo E Giocando con la scarpa Un pochino più alta Oppure Più Non dico Sportiva Ma Casual Ecco Il termine giusto Mi piacciono sempre Tantissimo Io lo dico sempre Sono nata con il vestito C'è l'uomo che nasce Con la camicia Io sono nata con il vestito Ma Tralasciamo Ma comunque Nell'ultimo anno Sì Soprattutto Nell'ultimo anno e mezzo Sto amando tantissimo I pantaloni skinny Non proprio aderente Cos'ho Fai Radiografi Il giusto aderente Che accompagna La figura Mi stanno piacendo tantissimo Quindi Pantaloni sportivi Che vanno ad accompagnare La figura Ma allo stesso tempo Sono molto pratici Quindi Sono quei pantaloni Comodi Belli anche esteticamente Che mi stanno Letteralmente Facendo impazzire Dove le acquisto Le acquisto Prevalentemente Da Tezenis E Con questa collezione Da OVS Ho acquistato Un paio Anche lì Tutto sto papuccio Poverice Che ha giocattato Un paio Cazzuno Da OVS 16 euro E 95 Sono in cotone Al 100% Perché L'ho acquistati Sì Il modello Mi piace tantissimo Quelli che acquisto Da Tezenis Costano 9 euro E no Vabbè 10 euro Questo costa Quasi 10 euro In più Ma Ne vale la pena Il colore Dice tutto E in questo rosa Bellissimo Io amo questo colore Ho praticamente Mezzo armadio Con questo colore Di conseguenza Lo sfrutterò Tantissimo E Appunto Questo pantalone Con L'elastico In vita Potete regolare La La vita Appunto Con Il No Il nastrino Come si chiama Con il laccio Non mi venivo termine Guardate Gli hardware Sono dorati Questa è proprio Una Una chicca Delle chicche Nell'ultimo periodo Sto Amando tantissimo Gli hardware O gli accessori In generale Color oro O color oro Rosa Per una questione Di gusto E anche perché A contatto Con la mia pelle Secondo me Sono più belli Rispetto A i colori Argenti Argenti Insomma Quella cosa lì No Lugo Argenti Argenti Ma che sto Dicendo Comunque Loro Giallo E loro Rosa Quindi Questo Qua Questo Pandalone Il modello Il colore E gli hardware Hanno detto Melania Questo è per te Cercavo anche il golfino Da mettere sopra Ma Nisba Non ci stavano proprio Nè grosso Nè piccerello Nè mezzan Niente E quindi L'ho preso Ha L'elastico In vita I laccetti Le tasche laterali Sono molto Molto Utili E un'altra cosa Che mi piace tantissimo È la parte finale Quindi ha questo Bordino Che tende ad assottigliarsi Sulla Sulla caviglia Adoro Follemente Adesso vi faccio vedere Anche il cartellino È della linea We Care Quindi Sono dei capi In cotone Biologico E fanno bene All'ambiente Inoltre Il nostro cotone Biologico È coltivato Con tecniche Naturali A ridotto Impatto Ambientale Senza l'utilizzo Di pesticidi Quindi è realizzato In cotone Al 100% Ed è cotone Biologico Tutti i capi Relativi A questa iniziativa Sono Contrassegnati Col cartellino We Care Questo qua Lo faccio anche leggere Aspettate Ok Per la conversazione Vi faccio vedere Anche L'altro pantalone L'altra tipologia Di pantalone Che potete acquistare Da Tezenis Molto spesso Quando acquisto Un pezzo Due pezzi Ve li mostro Sempre nelle stories Di Instagram Quindi seguitemi Anche su Instagram Vi lascio il nick Meni Made in Sud Perché se devo indossarli Al più presto Ecco ve li mostro Lì per praticità Perché Instagram È molto immediato La tipologia di pantalone Che trovate Da Tezenis Appartiene A questa linea Quindi con cotone Fibra naturale Questo è il pantalone Vi lascio il codice Così potete guardarli Anche sul sito Dal sito O andare in negozio Ma comunque vi lascio il codice Perché molto spesso ci sono persone Che acquistano solo online O acquistano tantissimo online Quindi trovo che lasciarvi il codice Possa esservi utile Ed è in cotone 100% Io ho preso una S Perché questi Calzano un pochino abbondanti E comunque con la S Mi trovo benissimo Hanno questa arricciatura in vita Hanno i laccetti Ma rispetto ai lacci Che trovate sul pantalone Di OVS Sono più Tra virgolette Casual Questi sono un pochino Più ricercati Perché hanno il finale Con l'hardware dorato Ma comunque anche questi Sono bellissimi Hanno anch'essi le tasche Ok Il tessuto è molto buono Vi faccio il confronto Con i polsini Ehi va voi polsini Vedete? Questo è anche più Stretto Alla caviglia Rispetto a questo Ma comunque anche Questa tipologia di pantalone Va a filo Con la caviglia Poi dipende la taglia Che acquistate E questa è la differenza Perché vi ho segnalato Anche questa tipologia Di pantalone Perché magari Non lo volete Di questo colore O magari Li cercate Per utilizzarli In casa O li utilizzate Per fare sport O insomma Li volete utilizzare Per diversi motivi Quindi non cercate Un modellino particolare Sappiate che Da Tezenis Li trovate Ci sono In nero In grigio In blu Fantasia Camouflage E forse Anche in verde Militare Ma forse Il pantalone Sportivo In verde Militare Ha una linea Diversa Appartiene sempre Alla linea basic Ma forse Ha una linea diversa Ma comunque Andate da Tezenis E li trovate Potete anche Inserire Il codice Sul sito Internet Di Tezenis Punto it E cercare Le varie tipologie Di pantalone Ci tenevo a farvi Questa segnalazione Perché sono Dei pantaloni Comodissimi Sia per uscire Sia per stare In casa comodi E anche ben Sistemati Poi Sono stata Da Calliope E da Calliope Io non amo Tantissimo Questo negozio Perché La qualità Non Non mi fa Impazzire Acquisto Veramente Un capo Una tantum E soprattutto Se ne vale La pena Comunque Un giro Me lo faccio Sempre Facendo questo Giro Ho trovato Delle magliettine In saldo Quindi Il pantalone Di OBS Senza saldo Perché è della Collezione nuova Queste magliette Invece Sono in saldo Allora Mi ho preso Tre Magliettine Perché le ho acquistate Perché sono In cotone Al cento Per cento Cosa per me Fondamentale Cioè magliette Mezzemaniche O magliette lunghe In fibra Sintetica Io personalmente Non le acquisto Soprattutto se Sono capi A contatto Stretto a contatto Con la pelle Soprattutto se Devo indossarle Per tanto tempo E soprattutto Se sono capi Da indossare Primavera E estate Non esiste E ho preso Queste tre Magliettine I colori Mi piacciono Tantissimo Li faccio vedere Poi dopo Vi dico Il prezzo Ho preso Questo verde Bellissimo È un verde salvia La mezza manica Intanto senti C'è Giulio E Silvano Che stanno giocando Stamattina Silvano è venuto Vicino a me Mi ha riempito Di baci Lui siccome È geloso È venuto Ci ha diviso E poi Ha abbracciato Il papà Ha acchiappato Letteralmente Anche la mia testa E mi ha detto Voi siete la mia famiglia Mamma mia Quando l'ha detto Mi sono emozionata In modo In modo Impressionante Comunque Dicevo Ho preso Questa magliettina Mi piace anche Lo scollo Perché non è Quello scollo Troppo ravvicinato Al collo Né troppo scollato Ha Lo scollamento Giusto Giusto per me Ha una Vestibilità Abbastanza fit Ma non è quel fit Da fit arbitro Quindi Accompagna Mi piacciono le cose Che accompagnano La figura Io ho preso Tutte e tre magliettine In taglia M Vi faccio vedere Quanto ho pagato Le magliette 1,99% Quindi Praticamente 2,4,6 Con 6 euro Mi sono presa Tre magliettine In cotone Al 100% Non so Non so Le utilizzerò Per casa Non so se Le utilizzerò Per casa Durante il periodo Primaverile Estivo Con qualche Cardigan In primavera In estate Con il pantaloncino O se Le utilizzerò Semplicemente Quando vado A fare sport O quando vado A fare una passeggiata O Ecco Per uscire Ma Sono delle magliettine Veramente Belle Esteticamente Sono ben fatte Devo dire Che sono ben fatte In cotone Al 100% Soprattutto E Io le sfrutto Tantissimo Durante l'estate E durante la primavera Anche durante l'inverno Ma soprattutto Durante la primavera E l'autunno Queste magliettine Le sfrutto tantissimo Sia in casa Che per uscire Poi ho preso Quest'altro verde Forse Questa È più Un verde salvia Rispetto a quella Adesso ve la faccio vedere Vicino Questa è più Più scuro Questa è più Un verde Più verde Scuro E questo Un verde chiaro Comunque Sono tutti i colori Che su Sulla mia carnagione Mi piacciono tantissimo Se ci fossero state Altri colori Le avrei Acquistate Perché Ripeto Le sfrutto tanto E poi ho preso Questo colore Bellissimo Che Su Le rosse È spettacolare Ed è questo verde senape Vedete come mi illumina Allora Per carità Cioè io lo vedo Che esteticamente Mi sta bene Nel senso che Essendo chiara Di carnagione chiara I colori chiari A me piacciono Anche questo mi sta bene Ma non so voi Poi scrivetemelo giù Tra i commenti Ma questo mi Immediatamente Appena l'appoggio in viso Mi dà molta luce E enfatizza tanto Il rosso Il rossiccio Aspettate Guardate sta Mua c'è una seduta D'armocromì Vedete Questo mi sta bene Stanno giocando Ma questo Vedete che è una botta Proprio di Di luce Come Come riflette sul viso E con l'abbigliamento Abbiamo finito Cicchiti Ciacchiti Questi sono i giochi Tra padre e figlio Poi vi faccio vedere Gli acquisti beauty Gli acquisti beauty Fatti da OVS Quindi Essence Allora Cosa ho preso? Ho ripreso La mia amatissima Questa l'amo Cipria All about matte Di Essence Ed è la cipria Bianca Detto papale papale Che trovate da Essence Oh Io l'ho acquistata Quando ero A Portici Ah ma poi io non voglio Che mi sostangano L'ho comprata per la prima volta Quando ero a Napoli A Portici Ciao mamma Ciao famiglia E L'ho acquistata Veramente Ho detto Vabbè Prendiamo questa cipria Non voglio spendere tanto Proviamola Oh È buona Veramente Ora Non ha questa polvere Ultrafine Ecco Ma devo dire Che è un buon prodotto Cioè Io Non avevo Nessuna Nessuna che Non avevo Non avevo aspettative Nei confronti Di questa cipria Mi è piaciuta Tantissimo L'ho finita La cipria Ho acquistato Poi quella di Astra Come vi ho fatto vedere Ve lo metto nelle schede Informative Ma Giulio Sembra lui Ma ha scassato Tutto la cipria Avevo tutto Scassato Di conseguenza Ho detto Ma come faccio A tenere La cipria Tutta scassata E ho acquistato Questa Come Come scorta Ma più che altro Perché non riesco Ad utilizzare bene La cipria Perché essendo Tutta in polvere Ho difficoltà A prelevarla Col piumino E anche con Con il pennello Soprattutto con il piumino Questa è la cipria E vi faccio leggere Le indicazioni Dietro Ok Adesso vi faccio vedere La cipria rotta Perché Qualcuno dice Ah no Tu hai comprato Perché hai fatto No No Io ho le prove Ve l'avevo detto Avevo annunciato Che questo sarebbe stato Un video ghiacchiere In generale Qua C'è tutto il mio trucco Basta Non c'è più niente E mi sacca Forse è pure troppo Adesso vi faccio vedere La cipria Peccato perché Peraltro È una cipria ottima Questa di Questa di Astra Makeup La faccio vedere Aspettate perché Sennò va cieco Guardate Peraltro Avete due Meli Maden Sud Vi piace l'idea Do avete due Meli Maden Sud Guardate qui Chi è stato Giulio Cesare L'imperatore Quello che Com'è Stai Attica Il flaggello Di Meli Maden Sud E quindi Avevo bisogno Di sostituire La cipria Mi sto sacrificando Ma a un certo punto Questo sacrificio Finirà Di conseguenza Lei Entrerà Pesce fritte Baccala Ma chi Mi deve Come si Ma lo dovete dire Comunque Ho preso Il correttore Questo lo ricompro Lo ricompro Sempre È un Waterproof Ma io Non lo so Perché io Non vado Nelle acque Con il correttore In faccia È il correttore Stay all day 16 ore Long lasting Concealers Io Mi trovo benissimo Aspettate Che ve lo faccio Vedere meglio Ok La colorazione È Questa 10 Natural Beige Mi raccomando Compratelo Se non avete Borse occhiaie Io Ringraziando Al nostro signore No no Nelle borsanti E nelle occhiaianti Non utilizzo Fondatinta Utilizzo solo Un po' di correttore Giusto per Uniformare E con questo Mi trovo benissimo Che ha già spentato A fare 30 euro Per un correttore Se non ha già Correggere Niente Devo solo uniformare Va più che bene Anche questo qui È praticamente Terminato Vi faccio vedere Anche che ho terminato Il correttore No Credo che Quella prova Sia schiacciante E mi piace tantissimo Ha il pennellino Mi raccomando Per una questione igienica Voi Innanzitutto Dovete avere Le mani pulite Giusto Voi prelevate Il pennellino Lo mettete Un poco Sulla mano E poi Lo applicate Sul viso Perché se voi Prendete Ogni volta Il correttore Pucciate La spugnetta Sul viso Poi ad Upside Ecco Diciamo che Non è molto Igenico Lo farei da tante Makeup artist Anche quelle Snobbose E le snobbiste Faccio Tante snob E poi Voi mettete Il correttore Con Come si chiama Questo spazzolino Fate le snob Almeno con tutte Le snobbans Quello che passa Prima Questa è pazza Poi ho preso Il mascara Vi ho fatto vedere Che ho acquistato Il mascara Di Kiko Non mi piace Ma proprio Zero 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 Di solito Mascara Performano meglio Quando passano Pochi tempi No Kist Non performa Né all'inizio Né ropponasse Ma Né ropponumese Proprio A parte Che un scovolone È tanto Quindi È enorme Quindi Vado a sta accorto Perché Chi non è pratico Si può ciecare Pure un occhio Quindi si Può ciecare Letteralmente L'occhio Perché Questo scopettone Va dritto Nell'occhio È la fine Ma È di Sì È nero Non è questo Nero Ultra black Ma Invece Sta cosa Con curve Comunque Non lo prendete Perché a me Non è piaciuto Ve lo faccio vedere E tenete presente Che Io Non ho nessuna Problematica Con le ciglia Sono lunghe Sono folte E sono già Incurvate Quindi Ho bisogno Solo ed esclusivamente Di un mascara Molto nero Perché come vi ho detto In altri video Io sono letteralmente Chiara Sopracciglie Ci sono Sono presenti Ma sono chiarissime Voi le vedete Disegnate Nel senso Io le vado a ripassare Con l'ombretto Peraltro Utilizzo L'ombretto Un ombretto Meraviglioso Che si trova Nella Naked La prima Naked Di Urban Decay Vabbè Sto dicendo Tutti cose Comunque Voi dico Perché ha giubbato Pure l'ombretto Che chi l'ha Nappo Con sto farne Non ne ho più Di conseguenza Sto facendo Tutto su Giri 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 Ah Perché le ciglia Sono molto chiare E ho bisogno Solo ed esclusivamente Di un mascara Che sia Ultra Ultra Black Che sto qua Se vera Malapena Non mi piace Ora come lo sto utilizzando Prendo Aspettate Perché questa è una cosa Che si ha da parlare È una cosa seria Aspettate un minuto Allora Questo per esempio A confronto Chi sei Chi sei Potrebbe costruire 50 euro A confronto A questo Prendo lo scovolino Aspettate Ora Faccio vedere Ecco così Mamma mia Questo è lo scovolino Del mascara I love extreme Di essence E questo è lo scovolante Del Kikani Guardate Cà C'è Sono enorme Però Vi posso assicurare Aspettate Ma in me non Non c'è una nuova Aspettate Urit C'è pure Questo con voglia Ma questo è una cosa Proprio Esagerata L'I love extreme Di essence È spettacolare Questo è uno Dei miei mascara Preferiti È presente Che io ho acquistato No Ai costo Di più Di più Di più Quindi ho fatto Una bella Mercè Mercè Di mascara E prodotti In generale Kiss È eccezionale Kiss E Kiko Non mi piace Proprio Ma proprio Zero 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 Ed è Il luxury Lashes Maxi volume Brush Io non Baccio Un maxi volume Brush Non baccio Proprio niente Poi sulle mie Ciglia chiare Non fa Né capre Né fritto Cosa sto facendo O utilizzo Lo scovolino Della I love extreme Oppure faccio Una prima passata Con questo E poi proseguo Con questo Ok Mo' ha indice Sto prodotto Che ha già fatto E come scorta Perché poi Non ho Nessun tipo Di Mascara Ho ripreso Questo lo utilizzavo Un bel po' di tempo fa Mi sono trovata Con Con lui Benissimo E quindi L'ho ripreso Ed è il volume Stylish 18 ore Curl And hold Mascara Questo qua Fully Puddly Brush Comunque Questo qui È buono Ve lo dico io Mascara Volumizzante Questo qui Non lo apro Perché devo Terminare Gli altri Mascara Quindi Questo È ottimo Insieme All'Elo Of Extreme E il Pupa Vamp Sono i miei Mascara Preferiti Poi In tema Sopracciglia Per cui Vagio Attacava Tante Io prendo Dalla Naked La prima Originale Guardate qua Si è anche Scassato Lo specchiante Prendo sempre Il colore Naked Questo Perché è il Giusto colore Per la mia Carnagione Per le mie Sopracciglia E soprattutto È un colore Veramente Perfetto Non va Né A scurire Le sopracciglia Né Tale Sperdurata Ottimo 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 Di prendere Lay Brow Stylish Set Set Per sopracciglia Più stencil Ma io stencil Non esiste proprio Che la uso È chiuso È sigillato E ho preso La versione Per le bionde In realtà Io non sono bionda Io sono Sono rossa Comunque Ho preso questa Avete il colore Più chiaro E il colore Più scuro Forse è un Colore Un pochino Più freddo Rispetto A questo Vedete È un pochino Più freddo Questo è un colore Più caldo Ma siccome Io ne utilizzo Veramente poco Di prodotto Questo in passato L'ho provato E devo dire Che mi piace Ovviamente Utilizzerò All'inizio Del sopracciglio La parte più chiara Per poi andare A utilizzare La parte più Più scura Diciamo che Sì Sulla cialdina Notate tantissimo La differenza Quando si applica Tra le sopracciglia Non c'è tantissima Differenza Avevo pensato Di acquistare Solo l'ombrettino Naked Da Sephora Devo vedere Voi cosa mi consigliate Grazie Mi cavo Da OBS Ho preso anche Un piccolo accessorio Voglio fare Una piccola premessa Io Preferisco Acquistare O oggetti In argento O oggetti In oro Per due motivi Il primo Perché Sono oggetti Che durano Per tutta la vita E non è cosa da poco Seconda cosa Io Anche nel corso Degli anni Mi ritrovo Ad avere Sempre Gli stessi gusti Trovo ad avere Sempre Gli stessi gusti A me piacciono Gli orecchini piccoli Gli anellini piccoli I braccialetti piccoli Tranne il Pandora Vedete per esempio La collanina È molto molto sottile Io amo questa Tipologia di collanina Le ho sempre amate E ho in programma Appunto Di acquistare Una catenina O in argento Placcata oro O in oro Secondo me Ecco È il metallo Che più Più mi dona Ma comunque Amo Tutto ciò Che è molto piccolo Anche per quanto riguarda Le spille Peraltro Lusi Ha fatto un video Bellissimo Sulle spille Di conseguenza Acquisto veramente poco Sia perché ho Già diverse cose Sia perché appunto Preferisco avere Poche cose Buone E soprattutto Che mi piacciono Veramente Non acquisto più Ah perché costa poco Lo prendo No assolutamente Tutto questo preambolo Per dire che ho Trovato a 2,50 Questi orecchini Sono in color oro Non so quanto Possano durare Questi orecchini Ma ho deciso Di prenderli Ho deciso Di fare Un'eccezione Sono dei cerchietti Se stanfermi Con queste placchettine Sono due paia Cerchi Con le placchettine Specchiate E poi ci sono Questi cerchi Con le stelline Sono molto molto carini Vedete Accostati Rispetto all'argento Mi donano di più Mi dona di più Il color oro Mi illumina Di mezzo Che sono proprio Le radici Nell'attesa di trovare Qualche Combinazione Qualche offerta Ecco Io vado spesso Da Stroili Oppure quando sono a Napoli Vado Nella gioielleria Di famiglia E li ho presi Mi sono Mi sono piaciuti Tantissimo E devo disinfettarli E poi Li utilizzerò Sperando di non combinare Pastrocchi Perché mi raccomando Anche quando Acquistate Biciotteria Prima di indossarla Disinfettatela Ma non adesso Che c'è la pandemia È un qualcosa Che va sempre Va sempre fatto E niente Li ho Li ho presi Nell'attesa Sono bellissimi Mi piacciono Tanto 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 Ma d'acqua e sapone D'acqua e sapone Ho preso Innanzitutto Questi becchi di cicogna Mi servivano Per creare Un po' di acconciature Li avevo presi Anche in previsione Della venuta Della mia mamma Ma Per scelta E per tanti altri motivi Non verrà Almeno per adesso È giusto Che sia così Dobbiamo essere Molto 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 Prudenti Non cadere Nell'ossessione Ma è giusto Essere prudenti E soprattutto Rispettare Le norme E le autorità Non fai così Capanosto Tralasciamo Becchi di cicogna Questi servono Sono Eh Poi ho preso Un bagno schiuma Ed è il maxiformato Della Borotalco A me piace tantissimo Il marchio Borotalco Mi piace molto Anche il Deodorante Quello classico Ha un profumo Meraviglioso C'erano diversi C'erano diversi Bagno Questo C'erano diversi Bagno doccia Della Roberts In offerta Io ho preso Questo Vaniglia e Ambra Volevo il classico Ma non giustivi Chiù E quindi ho preso Vaniglia e Ambra Maxiformato Da 700 Blu Mi piace Mi piace tantissimo Perché la nota Della vaniglia Non si sente tantissimo Resta comunque In Tra virgolette Accantonato Forse perché È presente anche L'Ambra Che è molto Molto consistente E mi piace tanto Se amate Queste profumazioni Zen Non Particolarmente Dolci Smielose Questo ve lo consiglio Perché è molto buono Non è estremamente Forte come profumazione Perché appunto La vaniglia va un pochino Ad attutire Ma ha questo sentore Di Ambra Meravigliosa Mi piace tantissimo L'Ambra Il Pasciuli I love Questo che ho fatto Da acqua e sapone È questo bagno solido Rinfrescante Del marchio Omnia Botanica È un Made in Italy Quindi è un'azienda italiana 97,6% Di ingredienti Di origine Naturale Ed è un bagno Solido Rinfrescante Con all'interno Aloe vera E rosa Ha una formula Vegana E un eco pack Voglio vedere Come mi trovo Vi lascio qui La lista ingredienti Ok È un panetto Se non erro È da 100 grammi Sì Da 100 grammi Nessun ingrediente Di origine Animale È dermatologicamente Testato Rinfresca e deterge La pelle In modo naturale Ed ecologico Proprio come si faceva Una volta È arricchito Con gel di aloe vera bio E petali di rosa Dall'azione lenitiva Rinfrescante E tonificante Questo speciale sapone Per il corpo Rinfrescherà La tua pelle Fatti coccolare Dalla fresca Schiuma delle note Di rasseneranti Rose Chissà com'è Non so com'è Il profumo Si sente Il sapone È imbustato E all'interno Ci sono È bellissimo Scusate Se li ho accecato All'interno Ci sono tutti questi Pezzetti Di rosa Tutti questi Petali di rosa Ecco per esempio Per fare un regalo È bellissimo È un bellissimo Pensiero Allora Sono d'accordo Con l'utilizzare Una confezione In cartone Ma Ecco Mettere il panetto Di sapone Così No L'involucro In plastica Per certe cose È doveroso E vedremo Come Non ho mai provato Nulla Del marchio Omnia Botanica Forse qualcosa Quando ero proprio Ragazzina Ragazzina Ma è una vita Che non provo Prodotti Di Omnia Botanica Chissà com'è Sono molto curiosa Di provarlo Poi Ho preso Due prodotti Che non ho In casa Cioè non avevo Né lacca Né sfuma E ho deciso Di investire In prodotti Buoni Ecco Buoni 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 Così ho preso La lacca Della Biopoint Professional Con 5 Attenzioni È una Lacca ecologica No gas Ha Lazione Volumizzante Asciuga Velocemente E fissa Senza appiccicare Non appesantisce E non lascia Residui Facile da spazzolare Via E protegge Dall'umidità E dall'effetto Anticrispo Ed è la qualità Salone Quindi sono Quei prodotti Della Biopoint Che potete Ritrovare Anche nei saloni Di parrucchieri Infatti In In diverse occasioni L'ho vista Ecco perché Ho preferito Acquistarla Ora non ricordo Il prezzo preciso Ma costicchia Un pochino Non è la lacca Da Da un euro Ecco Per intenderci Ora non ricordo Il prezzo 5 euro 7 euro 8 euro Non lo ricordo Comunque È una Delle lacche Ecco Più Professionali Che potete Trovare Da Acqua e Sapone È Ottima È una Delle lacche Più buone Che io abbia Mai Acquistato E l'ho Riacquistata Prima avevo Quella di Adorn Anche quella È una buona Lacca Ma con questa Non ha nulla A che vedere Se cercate Un effetto Ecco Professionale Non ha niente A che vedere Con questa Della Biopoint Sia per quanto Riguarda La lista Ingredienti Sia per quanto Riguarda La qualità Il risultato Finale Assolutamente La profumazione Mi piace tantissimo Mamma mia Allora Non è Lacca È un vero e proprio Profumo Questo è un profumo Non è una Lacca In passato Quando la utilizzavo Molte persone Mi dicevano Quando ci salutavamo All'epoca Ci abbracciavamo Mi dicevano Melania Che profumo Hai E gli dicevano Non è il profumo È lei È la lacca Della Biopoint Professional Il mio consiglio In generale Mamma mia È un profumo Pazzesco Sembra un profumo Di profumeria Acquistate Pochi prodotti Uno per tipologia Ma acquistateli Buoni 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 Ora Come vi ho detto Anche in altre circostanze Il prezzo Non conferisce La qualità Assoluta Ad un prodotto Assolutamente Ci sono dei prodotti Che costano poco Che sono eccezionali E viceversa Ma Ecco In quanto All'H Nello specifico Io la differenza La sento La noto Ed è assolutamente Percepibile Quindi Se non avete mai provato Questo prodotto Provatelo E non lo lascerete Più Stesso discorso Prezzo Qualità Eccetera Eccetera Ho preso La spuma Qui vi dice Che è nuova Ma io in passato L'ho già provata Ed è La schiuma Di Frank Proveau Expert Ricci Mousse professionale Ricci Definiti Tenuta 24 ore Disegna Ricci Senza appesantire Ed è vero Capelli morbidi Ed è vero Effetto naturale Ed è vero Anche questa La trovate In alcuni saloni Ve la faccio vedere Scusate per il riflesso Ma È questa qui È un bel bottiglione Comunque Sia la lacca Che la spuma Aspettate Vi faccio vedere Meglio anche La lacca E questa dura Dura tanto Dura veramente Tantissimo Ha una durata Di 36 mesi Anche se fosse costata 10 euro Per 36 mesi Anziché comprare 200 lacche O più piccole O di bassa qualità Io preferisco Acquistare Una lacca Del genere So cosa acquisto E soprattutto So della reale Efficacia E mi dura Tantissimo Da premettere Che la lacca La utilizzo Veramente Una volta Ogni morta di papa Quindi questa qua Buonanotte Di su natura Questa è una confezione Da 300 ml Per un pao Di 36 mesi Questa è una confezione Da 300 ml Per la durata Di 3 anni Quindi è un pao Di 3 anni Questa è made in France E questa è made in Italy La Biopoint Credo che sia a Milano Come azienda Allora Questa è eccezionale Il profumo Anch'esso Ricorda il profumo Che si utilizza Avete presente Quando voi andate Dai parrucchieri E uscite Tutte profumate Per i prodotti Questi Sono questi qui Allora Questa nello specifico È una mousse Per capelli definiti Tenuta 24 ore Ora Io non ho mai avuto La premura Di cronometrare La durata Di una piega Ma Devo dire Che è una delle Sfume Più buone E valide Che io abbia Mai provato Anche la schiuma Non la utilizzo Quasi mai Perché I miei capelli Tengono abbastanza bene La piega Tengono molto bene La piega In realtà Ma quando la utilizzo Soprattutto durante il periodo Primaverile Ed estivo In estate L'utilizzo tanto Perché Non faccio Nessun tipo di piega Fa tanto 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 caldo Per cui Piastre Fono La piastra Non la utilizzo Proprio più Quando inizio a far caldo Non la utilizzo Proprio più Non utilizzerò Neanche la spazzola Rotante Asciugo velocemente I capelli E poi Utilizzo La spuma E ho questo effetto Selvaggio Simil Beach Waves Meraviglioso E questa È una spuma Eccezionale Ottima Non ricordo il prezzo Ma anche qui Siamo oltre i 5 euro Se non erro Comunque Anch'essa costicchia Ma vale Tutti i soldi Che costa Un prodotto Che ho preso Da acqua e sapone È un gloss Della Wet n Wild Io amo Tantissimo i gloss E forse Sono l'unico L'unico prodotto Su cui investirei Una copiosa mole Di acquisti Ne acquisterei Veramente Tantissimi Perché Mi fanno Mi fanno Letteralmente Impazzire Ma Cerco sempre Di essere Morigerata Allora Ecco il T-Free Il colore è questo Ed è Un colore Spettacolare La linea È questa Non vi confondete Con la linea Matte Rouge a l'air E Borlant Renshine Lipstick È un gloss Luccicante Il colore È bellissimo Aspettate che vi faccio Vedere Anche Il numero E il nome Ok E adesso Vediamo Il colore Svocciato L'odore Non mi fa Impazzire Questo è il colore Ma è uno Di quei colori Che io Utilizzo Vedete È bellissimo E mi dà La sensazione Di essere Un È un malva È un malva Bellissimo Guardate anche Il pennellino Ha questo Pennellino Dovrei mettere La mano Solo che È un po' Un macello Vedete com'è Segue la Forma anatomica Delle labbra Questi cuscinetti Che seguono La forma Delle labbra E Mi dà La sensazione Di essere Un Gloss Ben aderente Che possa Aderire bene Alle labbra Perché Almeno Dallo Svoccio Non lo vedo Particolarmente Mobile Ma Lo vedo Ecco Che si fissa Abbastanza Che si fissa Abbastanza Bene È molto Bello Il colore È il Classico Malva È il Malva Per eccellenza Te lo indosserò O su Instagram Vi faccio qualche foto O in qualche In qualche video È bellissimo Questo era scontato Di base Già i prodotti Wet n Wild Costano poco Ma Ricordo La presenza Di uno sconto Se non ero Del 30% Su tutta la collezione Comunque Costa meno Di 4 euro Meno di 3 euro Sicuro Faccio vedere Due acquisti Due acquisti Che ho fatto Da Ipercop Forse prima Non ve l'ho detto Che sono stata Da Ipercop Ma non ricordo Perché io Ripeto Accumulo E poi mi scordo Allora Da Ipercop Ho preso Questo Io amo Il Dentifricio Di Equilibra Spesso ve l'ho fatto Vedere nei video Acquisti Comunque Se andate nei video Acquisti Beauty Lo trovate Di sicuro Se riesco Ve lo metto Nelle schede Informative Oppure Ve li metto I link utili Ve li metto Giù in infobox Dovrei essere Un pochino Più professionale In questo Ma Ipermushcord E ho detto tutto Comunque Mi trovo benissimo Per tutta la famiglia Col dentifricio Di Equilibra O con Il dentifricio Della linea Vivi Verde Cop Ora Ve lo faccio vedere E un tubetto Da 75 ml Un dentifricio Anticarie Con estratti Di salvia E arnica Provenienti Da agricoltura Biologica Protegge E dona Freschezza All'interno Non trovate Gli oli minerali Quindi è Senza oli minerali Senza silicone Senza coloranti E aromi sintetici Senza peg Ossia I polimeri sintetici Come previsto Dal disciplinare naturale Testato sotto controllo Odontoriatrico Questo è molto Molto Importante Cosa volevo dire Ovviamente È un'azienda Assolutamente Italiana Lava Isciacqua Accuratamente I denti Dopo ogni pasto E Comunque Almeno Due volte Al giorno È un ottimo Prodotto Lava Benissimo Ricordiamo Che In assoluto Quello che serve Per pulire i denti È il movimento Quindi è Lo spazzolino Il dentifricio È un plus in più Quindi la cosa importante È avere lo spazzolino Buono E spazzolare bene bene I denti Per accompagnare Questo movimento Utilizziamo appunto Il dentifricio Questo è uno Dei miei preferiti Non ci crea Nessun tipo di fastidio Il sapore mi piace Perché è fresco Ma non è Ultra strong Come alcuni dentifrici Non irrita le gengive È adatto anche Ai bambini Insomma È un ottimo Ottimo Prodotto E Un'altra caratteristica Molto Importante È sempre La pellicola Che va A proteggere Il dentifricio Se non l'avete Mai provato Provatelo Perché mi sa Che non lo lascerete Più Inoltre Vi faccio vedere Un acquisto Che ho fatto Per la casa Da Ipercop E sono queste tazzine Queste le ho trovate Se non erro Ad un euro Perché Nelle ultime settimane Ipercop Ha messo questi In realtà Lo fa ciclicamente Ma in queste ultime settimane Ha tirato fuori I piatti Bicchieri Tazzine Tazzine Di tutto A prezzi bassissimi Cioè Bicchieri 75 centesimi 50 centesimi Piatti a un euro Tazzina a un euro Un'ora e cinquanta Insomma Veramente Ve le tiravano appresso E io Innamorata cronica Delle Delle tazzine Ho preso Queste E per due tazzine Che entrano Quattro escono Perché sono rotte Perché sono vecchie E quindi le andrò A cestinare Le andrò A riciclare Queste sono le tazzine Sono bellissime Sono due tazzine Da caffè Da 90 ml In porcellana New boncina E come ha Specificato Nel video Delle teiere Roberta Roberta ti mando Un bacio grande Roberta Gemme La qualità Della Porcellana New boncina È È ottima È un'ottima Qualità Adesso Vi faccio vedere Le tazzine Ne ho presa Un'altra confezione Perché questa Devo regalarla Voglio regalarla Vi faccio vedere Le tazzine Che sono Meravigliose Sento Giulio Che dice Attento Camion Vedete E Si possono Utilizzare In lavastoviglie Quindi si possono Lavare i lavastoviglie Che si possono Utilizzare Anche al microonde Ditemi voi Se questa tazzina Non è Un amore È di una finezza Impressionante E questa è E questa è L'altra tazzina Anche questa è Molto bella Molto fine Bellissime Me ne sono letteralmente Innamorata Queste credo Deve averle pagato Un euro Un euro E cinquanta Bellissime Belle 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 Queste poi Andranno Lavate E Niente Non so metterle Più all'interno Dello scatolo Andranno Lavate E Sostituite Ad altre A tre Quattro Tazzine Da Tiger Ho preso Solo Due cose Avevo bisogno Di Mestoli Avevo bisogno Di Mestoli E Le ho acquistate Appunto Da Tiger Ve li faccio Vedere Questa È la linea Mi piace Tantissimo Il punto Del colore Del legno Questa È a spatola Ha la parte Piatta Da un lato E la parte Leggermente Bombata Dall'altra Dall'altro Scusate Comodissimo Il forellino Perché Molti Mestoli Cucchiai In legno Non hanno Il forellino Queste invece Si possono Anche Appendere Le potete Utilizzare Nel vero Senso Della parola Per cucinare Ma sono Anche belle Per poterle Mettere Esteticamente Questa È la spatola E poi Ho preso Il cucchiaio Il mestolo Cucchiaio È un cucchiaione Enorme Questi Vengono Due euro Vedete I certificati Aspettate Che ve li metto Sono belli Mettimi a fuoco Sono belli Belli solidi Andrò a buttare Le due cucchiarelle Che ho In casa Che sono Praticamente Agli sgoccioli E le sostituirò Con queste Quindi Acquisti Mirati Ora Passiamo Agli acquisti Fatti Da Queen Outlet Per chi Fosse Di Catania E zone Limitrofe L'outlet Queen Casa Si trova Nel centro Commerciale I portali Al piano Superiore Dove Prima C'era Mango Ecco Per chi Fosse Dove C'era Mango Ma Non Votete Sbagliare Sopra Dall'ala Non mi ricordo Est o ovest Ma dipende Da dove Arrivate Può essere Est o est o ovest Ma Quelle Allora Ho preso Questo set Allora Il Il totale Ho speso 11 euro E 80 Cioè Praticamente Niente 11 euro E 80 Vi faccio vedere Tutte le cose Che ho acquistato Allora Avevo bisogno Di Tovagliette Tovagliette Per fare Colazione Chiare Da Colori Puliti Da Colori Neutri Con Colori Neutri Senza Particolari Fantasie Ma Soprattutto Cercavo Delle Tovagliette Che fossero Grandi Non è Facile Come vi ho detto Nell'ultimo video All Acquisti Per la Casa Coin Non è Facile Trovare Delle Tovagliette Belle Grandi Perché Di Solito Le Fanno Sempre Piccole Piccole Quindi Quando Le trovo Abbastanza Grandi E Soprattutto Che Mi Piacciano Le Acquisto Ho Trovato Queste A parte Che Il Tessuto È Meraviglioso Comunque Adesso Ve le Faccio Vedere Nello Specifico Guardate Quanto Sono Grandi Sono Inurni E Hanno Questo Tessuto Questa Trama La Vedete Ci sono Questi Riglini In Questo Color Panna Bellissimo Con Il Bordino Beige Sono Semplicissime E Per Questa Loro Semplicità Sono A dir Poco Meravigliose A me Hanno Fatto Letteralmente Impazzire Sono Delle Tovagliette Americane E In 100% Cotone Cosa Da Non Tralasciare Vediamo Se Sono Presenti Le Misure No Non Sono Presenti Le Misure Peccato Peccato Vabbè Comunque Si vedono Che Sono Grandi Qui Trovate Non Vanno Nelle Asciugatrici Si Lavano A 40 Gradi A Mano Neanche In Lavatrice Va No Che Sto Dicendo Si Lava A Mano A 40 Grad E Si Pu Stirare Ed 100% Cotone Forse Con Un Lavaggio Delicato Ma Io Non Mi Azzardo Comunque Sono Queste Ripeto Sono Enormi Vedete Come Sono Grandi Ovviamente Ne Ho Prese Due Vedete La Trama Vi 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 Vedere I Piatti Ho Abbinato Questi Tovaglioli Per Dare Questa Nota Di Colore Soprattutto Per Dare Profondità Anche Alle Tovagliette Bellissime Bellissime Me ne sono Innamorata Si Vede Vero Che Scelgo Gli Acquisti Con Cura E Soprattutto Rispetto Agli Anni Scorsi Acquisto Quando Qualcosa Veramente Mi Piace E Tendo Ad Acquistare Anche E Prevalentemente Me ne sono Resa Conto Negli Ultimi Negli Ultimi Negli Ultimi Anni Con I Colori Neutri Mi Sono Resa Conto Che Questi Sono I Colori Che Mi Piacciono E Soprattutto Sono Quei Colori Che Non Mi Stancano Comunque Tutta Stata Per Chiacchiero Per Farvi Vedere Anche I Tovaglioli Anche Si sono Sono Due Tovaglioli In Puro Cotone Questi Sono Al 50 Ma C'era Un Ulteriore Sconto Vedete Sono Bellissimi E Sono Anche Belli Grandi Vedete Si Possono Sfruttare In Tantissimi Modi Con I Colori Base Dei Tovaglioli Quindi Col Bianco E Con Il Beige Ovviamente Dovete Avere Delle Tovaglie A tinta Unita O Magari Con Dei Piccoli Fiori Ma Dipende Sempre Dalla Fantasia Altrimenti Sforate Troppo Con La Fantasia Dei Tovaglioli Ah Comunque Si Possono Combinare Con Tantissime Stoviglie Tantissimi Oggetti Anche Per Decolare La Tavola E Soprattutto Con Le Varie Tovaglie Quindi Magari Se Non Avete Dei Tovaglioli Tutti Bianchi O Volete Variare Per Creare Delle Belle Tavole Potete Puntare Su I Tovaglioli Guardate Che Sembra Una Sciocchezza Ma Se Voi Apparecchiate Con Una Tovaglia Beige Per E Tinta Unita Dello Sesso Beige Dei Tovaglioli Con Questi Tovaglioli Già Avete All'occhio Un Impatto Diverso Avevo Pensato Di Realizzare Un Video Proprio Su Tovaglioli Credo Che Su Youtube Non Ci Siano Queste Tipologie Avevo Pensato Di Realizzare Un Video Sulle Mie Tovaglie E Un Video Su I Tovaglioli Ma Soprattutto Sui Tovaglioli Perché Rispetto Alle Tovaglie I Tovaglioli Possono Essere Utilizzati Non Solo Possono Essere Messi In Tavola In Tanti 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 Modi Differenti Ma Si Possono Utilizzare Per Decorare Le Tazze Si Possono Utilizzare Proprio A Modi Tovaglietta Ok Guardate Per Esempio Questi Quanto Sono Grandi Guardate Questi Possono Essere Tranquillamente Utilizzati Sfruttati Anche Come Tovaglietta Americana Vedete Quindi Ho Pensato di realizzare una tipologia di una tipologia del genere spero che vi possa piacere fatemelo sapere anche giù tra i commenti e in ultimo ho preso i piatti, vi faccio vedere solo questi perché altrimenti combinerei un macello sono beige, dello stesso identico beige dei tovaglioli ma io li trovo bellissimi e ne faccio vedere uno così non combinavo solo piatto costava 7 euro porcellana fine made in Europe quindi sono piatti realizzati in Europa hanno questo bordino leggermente color panna anche qui forse così riuscite a percepirlo vedete qui il bordino e sono in questo beige incantevole io quando vedo questi colori impazzisco e hanno questo aspettate che avvicino vedete hanno questo bordo leggermente lavorato e sollevato forse se lo metto così lo vedete meglio e c'è questo bordino in panna il bordino leggermente leggermente più scuro e poi troviamo il beige ora ve li faccio vedere accostati una finezza se qualcuno ricorda io ho le posate o anche le posate di questo beige cioè bellissimo anche per creare delle delle colazioni fuori in giardino per esempio bellissime io immagino queste tovagliette americane appena arriverà la primavera magari quando faremo il video sulla tavola delle stagioni con Roberta versione primaverile ecco apparecchiare la tavola in giardino o in terrazza su questi tavoli in legno e ho anche i cuscini delle sedie del terrazzo per le sedie in legno e il sette in legno di questo beige e bianco cioè quindi farò un'accoppiata vincente e questo è il plus in più che vi dà la scelta dei toni neutri soprattutto in generale dei toni che utilizzate scegliete fate sempre acquisti in base ai colori e alle cose che avete già in casa così da poterle ecco addizionare insieme abbinare e via discorrendo cioè 11 euro ho preso due tovagliette due tovaglioli e sei piatti cioè cioè eh? spero che questo video vi abbia tenuto compagnia che sia riuscita a strapparvi un un sorriso quando mi scrivete dei messaggi in privato a volte ricevo anche le mail scrivete delle cose bellissime mi parlate di voi io a volte resto in silenzio per un po' di tempo mi prendo un po' di tempo prima di rispondervi perché l'affetto che donate e la sensazione di fiducia che riponete nei miei confronti mi lascia veramente senza parole e quindi vi ringrazio voglio cogliere l'occasione anche per chiedervi scusa se non riesco a rispondervi subito e per ringraziare tutte le persone che si stanno aggiungendo grazie alle persone che mi seguono dagli albori e grazie alle persone che mi stanno dando fiducia perché quando decidiamo di seguire una persona quando decidiamo di seguire un canale o un profilo in generale è come se stiamo dando fiducia a quella persona e quindi vi ringrazio tantissimo vi ricordo che mi trovate anche su instagram con lo stesso nick quindi melimadeinsud e noi ci vediamo al prossimo video come sempre un bacio un abbraccio e un tarallino cosa sono? sono delle paio massimo due paio queste credo di averle pagate meno di un eh se vabbè meno di un ah da ovvie ah le già è proprio la tipologia di pantalone che trovate hanno la manichetta la manichetta sa da lavare tutto cosa e poi si stira e si indossa poi ho preso mi si mi 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 non è molto igienico lo vedo lo vedo a fare e tenete presente che io che io che io mi 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 or un po' rimane un po' su riusci da ma che senso questo di una catenina sottile sottile con perché trovo che perché 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 trovo che ma tutto cose di donna ma queste cose di donna e molle sapone un sapone solido per lavare i capelli di origine naturale ed è un bagno solido rinfrescante l'utilizzo quindi mi sa che per tre anni mi sa di sì ah sì per tre anni e quindi dura tantissimo mi piace tantissimo sicuramente lo fate tantissime certificazioni spatola la seconda spatola o meglio il secondo cucchiaio o anche se io vi consiglio di utilizzare bianco con bianco e panna con panna sì puro e fe e